Viviamo in una società così ipocrita rispetto all'idea di libertà, grossolana, nel venderti questa idea della libertà che però poi è sottomessa al consenso, al doversi occupare, preoccupare di ciò che gli altri pensano di te. Io trovo davvero grottesche queste pubblicità di banche, di automobili, di vestiti, che ti dicono che tu devi comprare questo e quello, perché questo e quello interpreta bene la tua libertà. La esalta e tutti capiranno che tu sei un outsider, che sei originale. Ma siccome la giusta finalità, giusta, delle aziende è vendere il più possibile, la speranza è che vi siano milioni di persone originali e tutte allo stesso modo. Queste macchine che vagano, guidano nel deserto, su strade di scogliera infuocate da tramonti micidiali, immagini vendute a persone che per lo più mai vedranno deserti e se vedono strade di scogliera, sono quelle intasate dal traffico di rientro. Però aderiamo un po' tutti a questa iconografia un po' demente della persona libera, dell'outsider che celebra la propria diversità comprando lo status symbol. A questo punto, mi dico, forse vale più la pena immergersi, tipo bustina di te, nello status quo pienamente e chiedere di essere totalmente imboccati da questa o quella moda. È più degnitoso farsi dire che cosa fare. Alla fine è più coerente ed è coroso che farmi credere che il modo più esaltante di usare il mio libero arbitrio è comprare ciò che mi dite voi. Sapete che cosa? È che, e qui veniamo al punto del video, la libertà ha un suo maledettissimo costo, mentre la ricerca del consenso, dell'adeguamento, invece, è come immergersi in un tepore gradevolissimo, la facilità di conoscersi e riconoscersi attraverso gli altri, perché guardando gli altri noi vediamo noi stessi, riusciamo a vedere noi stessi. Questo rispecchiarsi in chi abbiamo di fronte attraverso gli abiti, le canzoni, il trucco, i luoghi di vacanze, borse, borselli, tute, macchine, profumi. Che brutto, in effetti, quando ti chiedono che musica ascolti e la gente non sa di che cosa parli, non ha mai sentito la marca delle scarpe che porti, del vestito, del libro che leggi, dover spiegare alla gente che cosa sono le cose che fanno parte della tua vita e che disagio che ci hanno insegnato a provare quando, pur non volendolo, lasciamo intendere che il nostro look, il nostro stile, il nostro smartphone parlano anche dei nostri limiti economici. E allora tanti, tantissimi, soprattutto molti indigenti, si sfondano il portafogli per adeguarsi a queste linee di consenso e senza rendersene conto aggiungono loro stessi alla catena delle loro sfortune altri anelli pesanti, pesantissimi, per sentirsi un poco meglio, un poco meno sfortunati, senza rendersi conto che così la loro catena diventa ancora più pesante e lunga. Per non parlare del dramma, poi, della ricerca di consenso in amore, dell'amami, ti prego, se no cosa faccio? Chi sono? Mi ammazzo, ti ammazzo. E del come non trovare l'amore nella vita si è visto in definitiva materiale da perdenti. E l'essere liberi in tutto questo dov'è? Dove finisce il coraggio di costruire la propria vita attraverso ciò che davvero ci piace e ci fa stare bene, assumendoci la responsabilità delle nostre opinioni e la lieve sofferenza di remare un pochino contro, di essere diversi, davvero diversi, e quindi sì anche un po' soli nella nostra unicità, perché unicità significa anche quello. In fondo non eravamo noi a voler guidare tramonto alle spalle nel deserto sconfinato mandando al diavolo il mondo e le sue regole? Alla prossima!